Allora, ciao a tutti ragazzi sono NicoGamer e oggi faccio... e vabbè quando entri... e oggi facciamo il nascondino Cioè Tommaso, Davide e Ali Allora, un attimo non è che... Allora... Devi entrare in idency, nella mia mappa entra Poi andiamo qua Per me qua dietro è un bel nascondiglio Entra che ti nascondi 3, 2, 1 Sì, sì, non saprai dove sono Alice Alice Aspetta un attimo, dato che poi... Alice ti regalo un kit Alice ti regalo un kit sulla Bed Wars Se non lo dici Ah, eccola la Alice Colpiscila Colpiscila, è così che si fa Non è manco vicino Ah, che io posso... Perché non gioco io Non stai giocando Oh no, no, l'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto Allora, scioppiamoci delle hack No, ma non c'è un cazzo di hack No, ma che tristezza No, non c'è un cazzo di hack No, non c'è un cazzo di hack No, non c'è un cazzo di hack No, no, Nicolò ti ha quasi visto Che hai quasi visto Guarda, se guardi bene No Sono troppo bravo No, Dado, ti odio Dado, ti avrei regalato un kit Se non lo dicevi Ah, ho capito Ho cambiato posto Te lo dico Facciamo tre round di questo E dopo lo facciamo su Kevin Pezzini Perché non c'è un kit Che mi fa sprintare Ti sta uccidendo Guarda, Dado, sei molto di aiuto Papà Papà Dai Non mi facciamo andare giù Brukeven adesso No, no, facciamo altri due round E poi Brukeven No, vabbè Allora, the backyard Allora, Tommaso non c'è più Siamo soltanto in tre ancora E c'è Dado Uh, Dado Invece cercherai Alice Alice Alice, segui me No, mai Mai, verro lì Alice, mi stai seguendo? Allora No, Dado No, che per la prossima partita Io mi preparo le acne Se continui Lo so Eh, tu hai visto dove sono io? Cosa? Io mi scioppo No, no Io mi scioppo le axe Ci sono Te lo dico No, non ci sono Vabbè, pure c'è sto Cos'ho carino Dai che non posso salvare Questo me lo prendo però Questo me lo prendo però Vai No, scusate Ma io lo so Bye Cosa signora? Bye Bye Cosa signora? No, scusate Lì Allora no ma ti arraghi sinceramente no 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 è un albero bello grosso che albero? un pino che pino? un pino che pino vuoi che ci sia no un po' più in alto la casa del pino la casa del pino la casa del pino sono dentro una cosa guarda forse ci siete anche vi siete già nascosti Matteo e te te lo dico o era Cristian? non lo so credo Cristian però vabbè comunque ah Dado ti sto proprio vedendo 30 secondi 30 secondi sono in una specie di armadio in una specie di armadio no tanto non riuscirei comunque a raggiungermi nella mia zona nell'armadio lì sono ma non ci arriverai dai dai no guarda io non sono più amica ti ho te ti è sceso no no dai dai facciamo l'ultimo round e poi questo video potrà finire allora vediamo che mappa è the workshop non l'ho mai fatta credo ma questo l'ho già fatta oh amici 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 allora Dado nascondiamoci insieme ok no sto scherzando vattene dai vado dove vuoi io so dove andare so dove andare no aiuto mi sono buggato no però mi sono buggato mi sono liberato ma com'è che ci salgo è proprio dai sto e lanciamo i soldi i soldi i soldi lanciamo i soldi in giro no dove ti ho visto no qui no e dai tu può andare bene forse oh io sono ben nascosto allora lanciamo un po' di soldi allora vediamo un po' vediamo gioco finito vabbè comunque spero che questo video vi sia piaciuto e ciao 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 Alla prossima.